ciao stecchini come va? benvenuti sul mio canale iscrivetevi, attivate la campanella, mettete un commento, un mi piace, quello che volete seguitemi sui social e bla 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 oggi ho ripescato il vecchio boia che era una vita che non usavo e infatti non mi ricordavo più qual era il cavo o qual era l'adattatore mi sa che è un bel po' che non lo caccio fuori dunque se ben vi ricordate io dubito che voi vi ricordiate avevo trovato questo memory dove non mi ricordo se erano, no probabilmente erano i kinder però della, come si chiama quell'altra marca? non giorgi, pifferi, pa, zan, zi, 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 pa, pa, quelli di cui vi ho fatto diversi video delle misteri cose e ho trovato questo memory e in realtà ne avevo trovati due e però ora non l'ho trovato e quindi farò, giocheremo al memory con uno solo con due energy è più facile però ho detto magari duro di più la partita ma non l'ho trovato e allora quindi adesso andiamo a strappare in maniera far addurrare un po' di più il gioco e poi devo trovare anche il modo di farvi l'inquadratura allora abbiamo buffetta quattro occhi, grande buffo, questa buffolina qua non lo so perché boh perché non so è uscito un nuovo film, non lo so questo è forzuto quest'altra è la stessa di prima buffo contadino e buffo boh non so cosa ha più in mano un buffo che buffa le cose ah è buffo coso lì, buffo ingegnere lì come si chiama quello che ha la matita qua buffo carpentiere, buffo geometra che era come si chiamava quello lì buffo buffo costruttore, buffo chi lo sa vabbè allora cosa faccio? strappo e poi qua c'è scritto smurfs perché sapete che i buffi si chiamano smurfs smurfs perché non mi ricordo mai se sono francesi o belgi belgi, belgi no vabbè allora è meglio evitare di fare queste figure barbine allora cosa faccio? strappo per così o per così? aspetto i vostri suggerimenti e mentre poi cerco di pensare a come fare le quadrature di come giocherò perché credevo di avere a portata di mano il qualcosa che uso, il piedistallo insomma che uso per fare i video dall'alto ma invece no deve essere sepolto là sotto e non ho per niente voglia di cercarlo e quindi chi lo so proverò con questo treppiati qua vabbè allora andiamo a strappare buffetta non mi ricordo cos'altro che ho trovato so che era ah zaini o zaini deve essere però potevano essere kinder ma mi sembra quelli lì che era la confezione da tre avevo trovato appunto due memory e qualcos'altro di buffoso però forse era un buffo vero un buffo vero insomma un action figure dei buffi allora vediamo spero sia gregaroso e mettiamo giù ecco qua il buffo quello lì che non so come si chiama scrivetemelo pure nei commenti eh non mi ricordo non è buffo ingegnere buffo costruttore buffo edilizio a meno che fosse buffo scienziato insomma perché aveva la matita però lì c'è una massa vabbè se mi viene in mente poi vedremo tra l'altro i buffi sì a volte il genere mi piaceva ovviamente mi piaceva birba la capta di cargamella e ora sono un po' polverosi e ecco qua e allora adesso accingerò a trovare una posizione consona per giocare per giocare sto pettinando qua il gatto morto ma perché sto pensando a come fare cose e anche il prossimo video cioè in realtà ne devo fare almeno due e non so perché è un periodo un po' così però devo fare i video posso mica lasciarvi all'asciutto e poi allora adesso sto vagando con lo sguardo per tutta la camera per vedere se trovo il piedistallo magicamente cambierà l'inquadratura spero oppure frogo li tengo per aria allora sono in una posizione super precaria e non ho idea di cosa io stia facendo inquadrando quindi è tutto super bello non so nemmeno se la mia voce arrivi al microfono e ci si sta strusciando la mia maglia sopra a postissimo allora sarà un video super super precario li vedete tutti qua allora questi non si vedono questo si vede allora questi li mettiamo qua vicini vediamo un po' ecco guardiamo un po' come va come va tutto ok tutto ok questi cosa sono allora andiamo di cosa ci siamo questo è l'ultimo questo si ok possiamo cominciare si accettano suggerimenti allora direi che cominciamo bene vedremo no no boffetta e quest'altra rosa qui questa chi è la boffetta argela che rovin la boffetta rovin ota grande buffo grande buffo poi contro occhi e buffetta chi si ricorda dove era buffetta racconto a statizio è andata bene questa rosa e la boffetta è qua boffetta e boffetta questo mi sa che l'ho girato prima no questo cosa qui è forzutto tra l'altro mio boffo preferito era boffo lì quello lì sempre cavolato boffo prontolone non so perché mi piacesse boffo prontolone beh dai sono bravissima e la la yeah e voilà quindi sono stata super super brava guardiamo di quanto è venuto sto video sarà tipo di 5 5 5 5 minuti e posso augurarvi la buona 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 ecco la buona 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 no buona 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 Grazie a tutti.